Vi ho già parlato diverse volte di funzioni corporee nel corso dei miei tre minuti grezzi. Qualche giorno fa ho parlato anche dell'andare al cinema e di come il popcorn sia diventato il cibo preferito quando si va al cinema. Oggi rimango in tema di funzioni corporee e di cinema perché ho scoperto un sito interamente dedicato a raccomandare alle persone che vanno al cinema quando è il momento migliore per andare a fare pipì durante un film. Non ci sono spoilers quindi non racconta passaggi importanti della trama non rivela niente di che però fa presente alle persone che vanno al cinema ecco se andate a vedere questo film potete andare a fare pipì in questo momento in quest'altro momento perché succede poco. capita spesso soprattutto quando si va al cinema con i bambini che i bambini abbiano voglia di fare pipì e capita anche che con un film che dura due ore e mezzo o tre ore anche gli adulti nonostante siano andati al gabinetto prima di uscire per andare al cinema abbiano la necessità di recarsi al gabinetto anche durante il film. È sempre un momento imbarazzante perché soprattutto se il film è coinvolgente non si vuole perdere niente però quando natura chiama bisogna rispondere. Per curiosità sono andata a vedere un po' i film dove ci sono le raccomandazioni per gli orari per andare in bagno e non sono solo film per bambini anzi in curiosità sono andata a vedere quando si può andare a fare la pipì durante il film Bullet Train che è un film di cui ho parlato anche del libro che è divertentissimo, spassosissimo è un film lungo più di due ore e sono andata a controllare perché è un film con un ritmo serratissimo proprio così come il libro succedono un sacco di cose a tutti i momenti e infatti mi dicono ma come si fa a andare a fare pipì durante Bullet Train? Quando vai vai anche se vai durante la sigla ti perdi qualcosa e infatti nel sito indica due tre momenti quando si può andare a fare pipì però ripete diverse volte guardate che Bullet Train è un film pieno 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 d'azione quindi quando andate andate qualcosa la perdete poi mi piace anche il fatto che nel sito si ricordi mi raccomando ricordatevi di lavarvi le mani perché non è perché fai le cose di corsa perché devi tornare in sala poi non ti lavi le mani per carità lavatevi le mani sempre dopo che andate al gabinetto no è un sito interessante dubito che lo userò però mi ha fatto piacere trovarlo è una curiosità vi metto naturalmente tutti i link sia dei miei vecchi tre minuti gresi dove ho parlato dei vari argomenti che vi ho detto e naturalmente anche il link al sito che vi dirà quando potete andare a fare pipì in tutta tranquillità